E' Giovanni Ruvolo il candidato a sindaco scelto da patto etico responsabile, movimento che fa parte del Polo Civico. Ruvolo ha, diciamo così, battuto, anche se non è stata una vera e propria competizione, Ferdinando Rovello e Stefano Vitello, anche loro candidati. Adesso che succederà? Succederà che alla prossima riunione, nella quale il Polo Civico è composto da più anni, ma dovrà decidere a sua volta chi sarà il candidato sindaco tra Ruvolo ed eventuali altri candidati del movimento. Ed intanto si attendono ancora eventuali alleganze, conseguenze del forum cittadino, che probabilmente non arriveranno. Anzi, forse qualche spaccatura si intravede all'orizzonte. Infatti non è ben chiara la posizione di una parte dei comitati di quartiere, che con una lettera inviata da Carlo Campione tra le ricche chiedono un ulteriore confronto con le forze civiche. Sarà che ad alcuni non sta bene Ruvolo? Sarà che c'è chi ha avuto sin dalla prima ora l'aspirazione di fare il candidato sindaco? E dunque magari cerca altri lidi, sempre di aria centrosinistra, tipo un accasamento nel PD da indipendente? Quei siti ai quali verranno date risposte almeno tra qualche settimana. Nelle more i comitati con un direttivo rinnovato continueranno a lavorare, aspettando che, come si legge nella nota, un passaggio dalle parole ai fatti.